Ed ora un breve focus sull'attualità in compagnia dello scrittore Roberto Quaglia. Ciao Roberto, buonasera. Buonasera Paolo, un saluto a tutti. Oggi parliamo della guerra. Netanyahu ha appena dichiarato in un video postato su X che la guerra continuerà fino a che Hamas non verrà eliminato e dice che stanno attaccando Hamas con un fuoco infernale. Però di cosa parliamo Roberto? Perché sostanzialmente sono morte dall'inizio del conflitto almeno 20.000 persone, quindi anche civili, circa 8.000 bambini e 6.200 donne. Sono cifre terribili a cui purtroppo l'Occidente sta sviluppando tolleranza, ovvero non fa più orrore. Questa è forse la grande novità, la grande notizia è che questo orrore ha smesso di fare qualsiasi effetto in Occidente, se mai ne ha fatto. Quindi la grande tragedia è la nostra complicità nella insensibilità. Il problema è che la guerra va avanti, poi il fatto che la guerra sia contro Hamas, poi muoiono i palestinesi, muoiono soprattutto i civili, quindi è un espediente retorico più che altro. Purtroppo il governo Netanyahu non è che abbia molte altre chance. Quando uno si infila in questi piccoli ciechi, purtroppo come governo è costretto a conseguire un risultato definitivo oppure sopportarne le conseguenze. Le guerre hanno questa orribile logica, quindi purtroppo la guerra continua e noi non facciamo nulla per fermarla. Ora parliamo della situazione nello Yemen. Ti chiedo se c'è un rischio di escalation, perché gli Yemeniti hanno attaccato delle navi che transitano nel Mar Rosso e quindi sempre meno navi mercantili vogliono passare di lì, stanno deviando le proprie rotte. Che cosa succede? Succede che un incendio tira l'altro, quindi la situazione infiammata in Medio Oriente si è stesa al Mar Rosso. Lo Yemen attacca le navi che potrebbero essere diretti in Israele e quindi molte compagnie adesso di navigazione hanno smesso di far transitare le loro navi dal Mar Rosso. Si pensi che dal Mar Rosso passano dal 10 al 15% di tutti i traffici commerciali del mondo e quindi il fatto che venga bloccato questo canale ha delle implicazioni disastrose per la produzione industriale europea, per l'economia europea e poi chiaramente anche per altre economie. Comunque la più penalizzata sarebbe proprio l'economia europea. Quindi poi diciamo che in aggiunta a questo c'è la possibilità di un escalation veramente pesante, perché gli Stati Uniti appunto hanno adesso deciso l'invio di una forza proprio per contrastare questi attacchi degli Yemeniti sulle navi. Quindi siamo ad un passo da un escalation pesante nella regione. Grazie Roberto per la tua analisi, sempre molto interessante. Ti salutiamo. Grazie a voi, buona festa a tutti.